Ma la pace interiore in un mondo così complesso, così caotico, esiste veramente? Come la si può raggiungere? Se intendiamo uno stato di pace interiore permanente, devo essere molto sincero, non credo che sia tanto semplice raggiungerlo, o almeno io personalmente non penso di averlo mai raggiunto. Forse qualcuno che si isola completamente dalla realtà, un qualche monaco sperduto nelle montagne, può essere, ma lo trovo molto difficile. Però credo in un'altra cosa, cioè credo che la pace interiore esista e sia un po' come la felicità, c'è ma sfugge, la tocchiamo per un attimo e poi sembra svanire. Allora il segreto probabilmente è allenarsi a richiamarla, non tanto sperare di raggiungere uno stato di pace interiore permanente o di felicità permanente, ma essere piuttosto consapevoli che va e viene, accettare questa cosa e diventare più bravi, più capaci a rievocarla, a richiamarla, quando ci accorgiamo che effettivamente se ne sta andando. Alla fine, volenti o nolenti, saremo sempre un po' succubi delle circostanze esterne, che non sono sotto il nostro controllo. Quello che invece possiamo controllare è la nostra risposta interiore. Ed è tarando meglio la nostra risposta interiore, imparando a farci spostare dal nostro equilibrio sempre meno, mano a mano che ci alleniamo, che possiamo, non dico raggiungere la pace interiore, ma essere in grado di richiamare questo senso di pace, questo senso di felicità, anche quando le circostanze esterne sono sfavorevoli. E dal mio punto di vista ci sono tre cose fondamentali su cui lavorare per ottenere questo. La meditazione, la scrittura e l'attività fisica, anche se ti potrà sembrare strano. La meditazione, perché forse è l'allenamento più naturale per evocare, suscitare, generare questo senso di calma, questo senso di una mente libera, non sovraccarica di pensieri, di autodialogo caotico. E senza dubbio la meditazione oggi è riconosciuta scientificamente come uno strumento valido per generare benessere, per gestire meglio lo stress. Ed è allenabile. Non aspettarti di meditare una volta e di raggiungere la pace interiore, non commettere questo errore. D'altra parte, se pensiamo al terzo punto che è l'attività fisica, beh, non penseresti mai, ah, faccio allenamento una volta e sono in forma eccezionale. Non funziona così e non funziona così nemmeno per la meditazione. Ci vuole tempo. Secondo punto, la scrittura. Io credo che la scrittura sia uno degli strumenti migliori per riflettere. Riflettere su chi siamo, riflettere su cosa vogliamo, riflettere sulle cose che ci fanno soffrire, sulle cose che ci fanno stare bene. Perché a volte siamo anche un po' paradossali, nel senso che ci sforziamo tanto di raggiungere qualcosa e poi ci accorgiamo che quella cosa che tanto volevamo non genera felicità, non genera quella pace interiore che speravamo di ottenere. Quindi imparare a scrivere sul proprio diario, a riflettere sulle proprie giornate, è un bellissimo strumento. Terzo punto, forse un po' più strano parlando di pace interiore, è l'attività fisica. Ma in realtà tanto strano non è, perché la ricerca nelle ultime decade ci ha confermato molto chiaramente quanto l'attività fisica possa aiutarci a gestire meglio il nostro umore. Attività fisica di lunga durata che ci calma per via delle produzioni di endorfine, attività fisica di forza e potenza che ci motiva e ci carica per via della produzione di dopamina. E dunque fare attività fisica, al di là di tutti i benefici che può avere sul piano appunto del corpo, è anche molto utile per essere più tranquilli e per essere più forti, non solo nei muscoli, non solo esteriormente, ma interiormente. Poi c'è un altro elemento, al di là di questi tre punti, che secondo me vale la pena citare, ed è l'accettazione, l'imparare a lasciare andare, l'imparare a capire che non possiamo controllare tutto, accettare le regole della vita, che non vuol dire rassegnarsi, è una differenza sottile ma sostanziale, vuol dire però accettare le regole, provare a fare del nostro meglio nel contesto delle regole della vita, capendo molto bene quali sono le cose su cui non abbiamo alcun controllo e che quindi rappresentano sostanzialmente una grande perdita di energia e di tempo nel momento in cui diventano il centro della nostra azione. Accettare le regole della vita, imparare ad amare le sue pulsazioni magiche senza pretendere di capire tutto e di controllare tutto. E visto che ho parlato di meditazione, qui sotto trovi un video in cui ti spiego proprio come iniziare a meditare anche se non l'hai mai fatto fino ad adesso.